Ciao a tutti Leopardi, siamo qua al Palain Audi di Moncalieri dopo la bella vittoria di Bea su Colbe. Un inizio un po' sofferto, poi dal terzo quarto, un bel parziale, si sono aperte le danze. Qua con noi Gabriele Tulumello, anche per te una bella partita. Ad aprire le danze sono stati proprio i tuoi canestri in testa al terzo quarto. Esatto, è stato un inizio non facile, sapevamo che loro erano una squadra tosta. Dal terzo quarto in poi abbiamo capito come dovevamo giocare e alla fine siamo riusciti a portarci alla casa, tutti insieme, come una vera squadra. Queste qui sono le vittorie che ci faranno crescere e ci faranno andare avanti nel campionato. Grazie, adesso sono tre vittorie di fila, com'è il morale nel gruppo e come sta andando questo percorso qua, Bea, per te il primo anno? Sì, per me è il primo anno, è stato un inizio un po' così così, però sto cercando di migliorarmi ogni giorno, ogni partita. Oggi ho fatto una buona partita, però devo continuare così e adesso testa la prossima, che è Casale. Loro sono tra le prime in classifica e sarà una partita tosta come oggi, però possiamo farci, oggi abbiamo dimostrato che possiamo farci. Grazie mille, come sempre Leopardi Pride.